Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale si è parlato della viabilità nella zona Valliva e dei progetti che devono essere realizzati relativi a due rotonde e alla sistemazione del manto stradale. Il sindaco Cicchitti voleva rispondere alle obiezioni della minoranza che aveva come priorità inizialmente soltanto la realizzazione del manto nel tratto di strada provinciale sangritana ma anche al consigliere provinciale Tavani che nella intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi diceva che praticamente bisogna realizzare solo per il momento una delle due rotonde e pensare alla sistemazione del manto della provinciale. Io credo che su questa vicenda come ormai abitudine si dicono tante inesattezze ma credo in maniera voluta e strumentale. Bisogna fare appunto chiarezza perché qualcuno come del Movimento a Tessa Unito in modo particolare, inutile nasconderci dietro sigle, proprio in Consiglio Comunale l'altro giorno il consigliere Giulio Borrelli che mistificava la verità di questo intervento che la provincia sta ponendo in essere. Io vorrei forse sarebbe bene che questi signori si informassero prima di porre in essere iniziative e parlare anche fuori luogo. C'è un provvedimento, faccio un passo indietro. Stanno tentando di cambiare le carte del gioco come se questa amministrazione che io guido di liberatezza vuole indirizzare il finanziamento che la provincia ha ottenuto per opere diverse. Allora innanzitutto precisiamo che noi siamo fautori, siamo quelli che da tempo con una nutrita corrispondenza alla provincia e al Presidente stiamo sostenendo il rifacimento del tappeto di asfalto della ex 154, oggi 119 per indendereci il famoso rettilineo di Piazzano. Noi stiamo per sistemare quella strada in maniera definitiva. Però siamo di fronte a un finanziamento che nulla ha a che fare con la possibilità di realizzare quelle opere perché è finalizzata a opere infrastrutturali e nasce da un accordo di programma di lunga data di una delibera del Consorzio Industriale, la numero 259 del 20 settembre 2007, quando io ero stato appena eletto sindaco e il Presidente del Consorzio Industriale era il mio predecessore Giuseppe Cellucci e il Presidente della provincia era il Senatore Tommaso Coletti. C'era un accordo di programma che poi non è stato estupulato ma parte da questo progetto di realizzare una variante nella zona Valliva tra la 119 e la 116, per indendereci la 116 il rettilineo che porta all'abitato di Monte Marcone. Quindi noi come Liberatessa ci siamo espressi in Consiglio Comunale per realizzare prioritariamente perché con il 1.032.000 euro che poi la Regione ha finanziato, realizzare prioritariamente le due rotonde e quindi porre le condizioni per poi realizzare la bretella di collegamento per le due rotonde. Tutto questo per alleggerire il traffico e la situazione difficoltosa del traffico che vige in Val di Sano. Io devo aggiungere che dietro questo progetto che parte da lontano non ci sono ombre cosa che invece la nostra opposizione in Consiglio Comunale vorrebbe palesare ma la riprova è proprio questa delibera del Consorzio Industriale che addirittura parte da quando ero anche sindaco, di fatto è qualche mese dopo il mio insediamento da sindaco parte da quando ero sindaco, era sindaco appunto Giuseppe Cellucci in questo Consiglio Comunale e credo che questa sia la testimonianza tangibile di tutto questo. Quindi si dicono delle cose inesatte e noi abbiamo fatto un ordine del giorno alla provincia dove abbiamo manifestato anche il modo per reperire le somme per sistemare la 119, il rettilineo di Piazzano con il ribasso d'asta, con una forma migliorativa di gara d'appalto possiamo ottenere tutti e due i risultati e nello stesso momento la provincia deve incrementare le somme necessarie per sistemare questa strada. Voglio fare anche un'altra precisazione. Noi abbiamo preso un impegno in passato con i cittadini per un'opera che non competa a noi realizzare un ponte pedonale sull'appello alla rotonda di Piazzano per collegare quel centro civico della chiesa di San Benedetto, il parco, l'ufficio postale le attività commerciali che ci sono lì, il ponte carrabile sull'appello è molto pericoloso di una carreggiata ristretta e siamo advenuti ad un accordo di programma con la provincia per finanziare al 50% questo ponte pedonale. Oggi siamo in gara di appalto e la provincia si è tirata indietro per quanto riguarda la sua quota parte e il comune di Atessa, nonostante tutto, consapevole e responsabile che si tratta di un'opera necessaria per l'incolumità pubblica, sta realizzando a totale spese del proprio bilancio, quindi con risorse proprie del proprio bilancio, sta realizzando quell'opera. Nei prossimi giorni ci sarà l'appalto e quindi daremo anche questa risposta. Quindi ci aspettiamo da parte della provincia che faccia qualche sacrificio, sappiamo le proprie difficoltà economiche ma proprio in virtù di queste difficoltà economiche noi del comune di Atessa stiamo andando incontro verso la provincia. Ci aspettiamo questo gesto e che non venga a creare sul nostro territorio situazioni di dissapori, opportunità di strumentalizzazione da parte delle opposizioni, di situazioni che noi rigettiamo e non nella maniera più assoluta. Il comportamento di questa maggioranza è cristallino e trasparente su tutti i fronti. La programmazione sul nostro territorio credo che spette a noi e chiediamo questo rispetto alla provincia.